Il 17 si può pendire sia il numero del destino di Enzo Votor. Oggi, 17 settembre, alle 17 la pronuncia, la lettura della deputata mondana. Il 17 giugno dell'83 l'arresto, il 17 gennaio dell'84 la concessione degli arresti domiciliari. Il 17 giugno dell'84 l'elezione al Parlamento europeo. Il 17 luglio dell'ossessuale, quasi quattro ore, è stato interrogato.